youtube è diventata al giorno d'oggi una piattaforma su cui informarci e seguire i nostri divulgatori preferiti e molti di voi si chiederanno ma cos'è che pasquale guarda su youtube molto probabilmente nessuno comunque si guarda soli sui video no no oggi ti dico quali canali stranieri io segua e per quale motivo io lo faccia ovviamente per sapere quali siano devi aspettare un po giusto il tempo della sigla ciao a tutti bentornati sul canale io sono pasquale questo è io risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto io sono un vorace consumatore di youtube lo dimostra il fatto che troverete commenti miei sotto a moltissimi video dei miei colleghi per colleghi intendo colleghi di youtube praticamente posso essere definito come uno stalker del commento ma invece di parlarvi di alcuni canali italiani di cui ne seguo a vagonate oggi vi parlerò in breve di alcuni canali youtube in lingua inglese che secondo me possono dare un buon valore aggiunto alla vita di tutti noi la cosa che hanno in comune tutti questi canali è che nel loro piccolo mi hanno dato uno sprint in una determinata parte del mio percorso di crescita finanziaria e quando parlo di crescita finanziaria non parlo solo di investimenti ma parlo proprio di crescita nel maneggiare gestire risparmiare e a infine investire il mio denaro ovviamente se avete difficoltà con la lingua inglese farete fatica a seguire questi canali ma per chi ha un discreto livello di inglese secondo me avrete molto da trarne di profitto ma partiamo subito col primo sicuramente conosciutissimo ai molti nato a Novigrad un tempo città nuova di istria in croazia classe 1983 sono anche più vecchio di lui sven carlin ha origini italiani e olandesi parla cinque lingue io parlo il crotonese e l'italiano un po di inglese lui invece parli inglese italiano olandese croato e sloveno è un investitore ed imprenditore digitale espertissimo nel value investing inizia la sua carriera nel mondo accademico dove scrive pubblicazioni finanziarie di successo come ad esempio a real value risk estimation model for an emerging market si trasferisce poi a londra dove viene assunto dalla bloomberg ma qui capisce che il suo posto è un altro è quello della imprenditoria per cui cosa fa si trasferisce di nuovo sembra a me praticamente gira con tutto il mondo e va nei paesi bassi dove avvierà la sua attività di ricercatore autonomo investitore ed insegnante mediante corsi erogati sulla piattaforma stock market research nel 2018 ha pubblicato il suo ultimo video che si intitola modern value investing dal canale di sven si possono notare numerosi spunti sull'analisi approfondita delle aziende e a mio parere il suo modo di approcciare l'analisi del business è fatto in toto e per cui in maniera disarmante la quantità di studio e il livello di approfondimento sono fenomenali per chi volesse capire bene come si analizza un business secondo me questo è il canale giusto il secondo canale è anche questo un po sulla bocca di tutti almeno per chi mi segue perché io stesso ho fatto diverse imitazioni di hi i'm jimmy in this video infatti parlo di learn to invest un canale che è stato aperto nel 2011 come una finestra espositiva al pubblico di youtube del sito investor grow punto com che adesso non mi sembra essere più raggiungibile un sito che comunque offriva spunti educativi sul mondo della finanza e degli investimenti quello che colpisce di gmi la estrema concentrazione del proprio portafoglio di investimenti personali che è fatto al momento solo di sei aziende il suo modello di analisi si basa sul discounted cash flow il dcf seguo gimi da molto tempo soprattutto per la sua modalità di analisi fatta anche in questo caso molto ad ampio spettro ogni mese ad esempio fa un'analisi della salute del mercato americano in base a diversi indicatori per stimare se ci si trovi in una possibile fase bull o bear sicuramente un personaggio molto particolare che ha una schiera di appassionati seguacissimi come me andiamo sul terzo canale questo è completamente diverso degli altri due non c'entra assolutamente niente e qui parlo dei due conigi amon e christine il canale si intitola o si chiama our rich journey amon e christine sono una coppia statunitense seguace del movimento fire acronimo di financial independence retire early indipendenza finanziaria va in pensione prima il canale racconta infatti del loro percorso al risparmio di investimento che li ha portati all'età di 39 anni ad essere economicamente indipendenti la coppia infatti ha lasciato due lavori statali in anticipo andando appunto in pensione anticipata e si è trasferita così di colpo a lisbona con le sue due figlie il focus di questo canale è sul come risparmiare come preparare un budget come tagliare le spese soprattutto quelle inutili ispirandoci alla stile allo stile di vita minimalista gestiscono anche un blog dove vanno a condividere la loro esperienza ed offrono vari corsi sia a pagamento che non nel cui insegnano il metodo fire alle persone che si affacciano al movimento la cosa eccezionale che dal loro percorso e per cui dai loro video non si è mai intravisto tutto quello che di solito si percepisce da chi fa che abbraccia il movimento fire e cioè la mancanza di agio dovuta alle privazioni che sono necessarie secondo molti per raggiungere la propria indipendenza finanziaria il prima possibile non voglio essere frainteso hanno sicuramente fatto dei sacrifici dopo il lavoro ma hanno sempre dato alle loro figlie una vita che è normalissima da questo canale ho tratto spunti molto interessanti su come essere in grado di gestire un budget come trovare i metodi per risparmiare come creare un fondo di emergenza e anche come approcciare un investimento a lungo termine che sia diciamo la finestra o la porta principale volta a far diventare la persona indipendente dal lavoro e finanziamente indipendente la maggior parte degli step migliorativi che ho fatto io nella mia vita finanziaria li ho sicuramente raggiunti anche grazie alla visione dei loro video ci spostiamo ora nel regno unito con un canale che tratta più o meno le stesse tematiche di amon e christine parlo di the humble penny di ken okohara for il fondatore nasce in nigeria e si trasferisce a londra all'età di 14 anni qui si forma come contabile e dico per loro di chief financial officer cfo per diversi anni in aziende che si occupano di gestione di investimenti tuttavia come la coppia menzionata prima ken insieme alla moglie e le sue due figlie raggiunge la propria indipendenza finanziaria all'età di 34 anni lasciano entrambi il lavoro per dedicarsi alla loro passione e soprattutto alla loro famiglia gestisce anche un blog dove racconta la sua storia condivide i propri momenti di vita quotidiana e pubblicizza i propri corsi dove insegna a come poter raggiungere la propria indipendenza finanziaria è stato in tv stato più volte nel regno unito soprattutto da bbc e dai tv che sono canali famosissimi nel regno unito e porta alla luce idee e spunti di risparmio di gestione del budget di gestione del budget delle spese fatto in modo conscienzioso ma senza delle rinunce particolari come detto prima per amone e cristina il fatto di non dover sentire il peso delle rinunce è uno sprono a capire che con sacrificio ma sempre riuscendo a gestire una vita economica dignitosa dei risultati eccezionali senza denaro si possono raggiungere e questo aiuta molto di più a diventare finanziariamente indipendenti facendo capire che è alla portata di tutti che alla fine è nel regno unito non si trova negli stati uniti e per cui non vive con uno stile di vita e una tassazione molto più simile alla realtà statunitense ma molto più simile invece alla realtà che può essere quella italiana per cui vivere e risparmiare possono andare di pari passo anche qui in europa nell'ultimo canale si ritorna a parlare di gestione ma in un senso un po più accademico si chiama common sense investing è il suo diciamo proprietario ben felix benjamin felix lui nato a vancouver in canada si laurea in ingegneria meccanica per poi proseguire i suoi studi nell'ambito finanziario dal 2013 lavora per pwl capital dove ricopre il luogo di portfolio manager il suo modus operandi si basa sull'evidenza dei dati come fulcro per le sue decisioni importanti finanziarie con un sguardo anche e non solo quindi all'impatto psicologico che queste ultime possono avere ogni video di ben è relativo ed accompagnato da studi di settore che analizzano i dati e per cui lui va a trarre le proprie analisi e le proprie conclusioni dall'estrazione dei numeri veri e propri la cosa bella è che lui studia i numeri per conto nostro e a noi non resta solo che ascoltarne l'esposizione essendo un portfolio manager pubblica molto più di rado circa una volta a mese per cui i suoi video sono dei concentrati a mio parere di conoscenza pura sicuramente si tratta di un approccio totalmente diverso dagli altri canali che sono molto più pratici ma non per questo common sense investing risulta inefficace al contrario a mio parere e a mia impressione è stata una bella sorpresa youtube poi ha molti altri milioni di canali che parlano di questi ai commenti non posso conoscerli tutti e non posso neanche citarli tutti perché ne seguo altri per cui insomma sarebbe un video lunghissimo ma mi faceva molto piacere portare alla vostra conoscenza questi cinque ovviamente se ci sono altri canali che secondo te vale la pena dimensionare o di seguire per favore fammelo sapere nei commenti qui sotto se poi il contenuto che ti ho presentato oggi è stato di tuo gradimento ti chiedo ovviamente la cortesia di farmelo capire come sempre con un pel pollicione in su perché lo fai capire a me ma anche all'algoritmo di youtube se poi come sempre sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun video successivo ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così non ti perderai ogni mia nuova pubblicazione bene anche per oggi è tutto e noi non resta che dirci ciao e ci vediamo un prossimo video iscriviti al canale Grazie a tutti.